Io immaginano i tuoi Antoni in Congolo, un italiano mio, che sono i tuoi mescoli mescoli e io sono i tuoi amici di Klaukala, in Finlandia, in Europa dell'Esta, e io sono i tuoi amici di camera di Star Extension Gospel Il risponente da Allah e del rischio di marmita, il risponente di divanche come il di divanche perché il rischio di essere ombra. Il rischio di divanche è anche il rischio di marmita, spesiali. Pamoja na hiyo tuta anza kuimba ko taimba wimbo moja mungitabuki a nyimbo za mungu kwa mbele asisi kuwanza kusikia neno la mungu taimba a nyimbo za mungu makumi ine na saba kachanset maneno mingi ita anza kutoka mu francem utatudomia na juwa jina mojanzuri kuli kokila jina uku kunile te aratam nijina ili yesu jesu jina uri sanam jesu siku zote sawa jesu tumwa budu sasa na kumimbi asifwa na penda jina ili njema lina nivuta kwa ke mungu kwa saya tabu na uzu ni inafari jisana wana yesu yesu jina zori sana jesu siku zote sawa jesu tumwa budu sasa na kumimbi asifwa si wezi mimi kuweleza na kumimbi asifwa wana jina uku kwa kumimbi asifwa kwa jina ulaka jesu jesu jina uri sanam jesu siku zote sawa jesu tumwa budu sasa na kumimbi asifwa Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 S noi prendiamo questa predicazione per che la voce possa riuscire. In il nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Ora, questo mattino, una scrittura che viene dal libro di Hebreu, capítulo 13. Hebreu, capítulo 13, verset 10-14. Il è scritto come questo. «Nous abbiamo un hotel, dove ci sono gli servizi al tabernacle, non hanno le doi di mangiare.» Verset 11. «Le corpo dei alimenti, dove il sango è portato nel sanctuario, per il suo vero sacrificatore, per il peggio, sono riusciti fuori dal campo. C'è per questo che Gesù, anche, per il suo proprio sango, ha soffritto fuori dalla porta. Sortiamo quindi per andare a lui, fuori dal campo, portando il suo nome proprio. «Cari, noi abbiamo poi ci basso, delle città permanente, ma noi cerchiamo quella che sia il futuro». Che il Signore benisse la lettura di questa parola. Il nome del Signore Gesù Cristo. «Amen». «Nos intituliamo, questo mattino, questa prädicazione, una corta prädicazione, peut-être di 30 minuti, come un tempo di «Sortire del campo». Come noi veniamo di l'escoltare, l'apotere Paul ci ha detto di «Sortire del campo». «Sortire del campo». Perché ci ha sempre avuto due campi, in questo mondo, due campi, nel mondo religioso, due campi, in l'Eglise, o le soi-disant Eglise. Abbiamo d'abord le camp dei religi, in generale, tutti quelli che fanno tutto ciò che fanno, le spectacolo, in l'Eglise, che cantano, che danse, hanno un esprit religioso. Ma in l'esprit religioso che ci conduce tutti alla parola di Dio, noi dobbiamo atteggiare l'esprit la più elevata, l'esprit spirito. C'è perché noi dobbiamo sortire, andare in dehorsi del campo. Aller in dehorsi del campo, c'è dire, il faut essere considerato in questo mondo come un'uomo bizarro, un'uomo che ne risone più secondo le norme di questo mondo. Il faut sortire della tendanza generale, come il profeta di questo età ciò che dice. Nous allons prendere qualche tipo di la Bible, di persone che sono sorti fuori del campo, di persone che sono considerate come un'uomo bizarro, come un'uomo démodo, come un'uomo che ne risone più secondo le norme di questo mondo. come un'uomo come un'uomo, come un'uomo. come un'uomo, come un'uomo. come un'uomo, come un'uomo. come un'uomo. come un'uomo. come un'uomo, come un'uomo. come un'uomo, come un'uomo che non risone più, come un'uomo che non risone più come un'uomo. come un'uomo. come un'uomo che Hungry al paragrafo 31, questa predicazione ha stata prichata dal frè William Mariam Brannam in engaile il giorno giorno 19 settembre il 1964 al Brannam tabernacle di Sommersone, Indiana, USA. in ingrappo Mit l'esperimento a sp publisher io voglio di parlare di quello di sortire in grado, ma questa volta, noi lisonsiamo il profeta che è la nostra riferenza al paragrafo 31. Il profeta dice questo, come io guardo e che io prego da un punto a l'altro del paio e che guardo le persone, sono davvero convaincu che le persone non arriano fino a Christi. Le persone non sortono più, è quello che vuole dire, perché bisogna andare prima di la tendanza generale per andare fino a Christi, per andare a incontrato a Christi. Ma il profeta dice che quando guarda il mondo religioso, vuole che le persone s'arrate qualche parte, invece di attendere fino a Christi, si s'arrate qualche parte. Il continua, io credo che c'è l'ennemi che mette le battone nelle ruole. Qui è l'ennemi? Ce n'è non l'uomo, ce n'è non qualcuno che viene vivere a l'Eglise, ce n'è non l'adultere, non c'è il diablo che è in questo uomo. C'è questo l'ennemi che ha messo il battone nelle ruole. In effetti, le ragazzo per cui io credo questo, non l'uomo è l'objeto verso il cui hanno stato dirigito. Ce n'è non il satan. Quando le persone sono chiamati a croire al messaggio, a croire a l'Evangile Eterna, a croire a ciò che le persone fanno, si fanno, per che le persone ascoltano la parola di Dio. Ma le persone s'arrate qualche parte. Il sono stato dirigito sia verso un dogma, c'è un insegnamento appropriato per questa Eglise, come le persone devono se vettere, davanti una doctrine. Oggi, le persone professano e dicono che Brannam sia il Dio, per esempio. Le persone non sono riuscite da dove, perché Brannam era un serviteur di Dio, Brannam era un profeta, ma io lo considero come un profeta. Ma non sono qualcuno che deve adorare, ma quando le persone s'arrate a adorare Brannam, c'è dire il diablo, un partito. Oggi, le persone hanno partito in una iglesia, hanno una esperienza, una esperienza che non è spirituale. Il s'arrate a una sensazione, per esempio, o qualcosa come questo, invece di essere dirigito verso Cristo, la parola. Cristo, c'è la parola? 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 C'è la parola che viene da una iglesia. Ce n'è non un dogma, ce n'è non una doctrine che è speciale per una certa iglesia, dove le donne se vestire di una certa maniera, dove le donne se vestire di una certa maniera, dove le pasteur, le predicatore, dove se vestire di una toge e fare qualcosa come questo. C'è per questo, il profeta continua, io penso che le persone fanno riposare le persone che hanno riposare la destinazione interna su un dogma quelconque, o su una sensazione quelconque. Par esempio, alcuni dicono, «J'ai danssato in l'esprit», «J'ai parlato in una lingua», «J'ai senti un feo partout sur moi». Savez-vous che tutte queste cose, là, può essere imitée par le diable? Oui, le diable può imiter tutte queste cose. Le diable può imiter tutte queste cose. Il y a le demon che immite tutte queste cose, che che predise anche l'avenir. Il y a le francs-maçons che possono imiter tutte queste cose. Il y a tutta la filosofia che possono imiter tutte queste cose. Il y a tutte le filosofi mando che possono imiter tutte queste cose. Il y a ce che che noi appelliamo, che noi, nel linguaggio del Congo, nel linguaggio che possono imiter tutte queste cose. Ma questo non viene da dieci. Ma noi, quando abbiamo la parola di dieci, noi sappiamo distinguere ciò che è spirito, ciò che è di dieci, ciò che è di dogma, ciò che è fabriquato par les hommes. Paragrafo 32, il n'y a qu'une seule cosa che non può imiter. Il diable non può imiter qu'une certaine cosa. C'è la principale. C'è la parola. Pendant il debate entre lui e Jésus, Jésus l'a vaincu. A tutti i coupi, il è scritto la parola. E io credo oggi che la ragione per la ragione che le persone non vengono a Christi. Perché le persone non vengono a Christi? C'è perché sono dirigei, molto di loro, per una denominazione. Qu'è una denominazione? Qu'è una denominazione? Io mi arrisco per cercare di che è una denominazione. C'è un mondo religioso che è che è un po' di la parola di Dio. Quando il ha portato una torta, quando il ha portato una lunga croix, quando il ha portato una certa forma di la barba, per montare al gens, perché il ha portato una croix su la veste e montare che lui è un apòtre. Aujourd'hui, le gens s'affichano soprattutto a tito di l'Eglise. Il è il era una pausa del le persone prendono la parola di Dio e immaginano un po' di pensi e della scienza umana. E dicono che c'è la parola, c'è la parola, c'è l'Eglise. Or, ce n'est pas l'Eglise, c'è la denomination. C'est-à-dire, c'è l'hybridazione entre la parola di Dio e le pensi umano, entre la parola di Dio e la filosofia. Il continuo. Je crois aujourd'hui que la raison pour laquelle les gens ne viennent pas à Christ, c'est parce qu'ils sont dirigés, beaucoup d'entre eux, vers une dénomination. Venez adhérer à notre église, ou lisez notre catéchisme, ou croyez notre doctrine, ou un genre de système quelconque, on leur indique la mauvaise direction. Et leur action et la vie qu'ils mènent sans Christ peuvent, par leur propre vie, s'est confirmée par cela. Voilà comment les gens ne peuvent pas sortir hors du camp. Or, la parole nous demande, c'est le nom hébreu, chapitre 3 que nous venons de lire, il fallait sortir hors du camp. Aujourd'hui, nous devons sortir hors de la tendance générale. Oui, chanter à l'église, danser, prêcher, parler l'anglais, parler les finnois, parler je ne sais pas quoi. C'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Vivre cette parole, puisque nous devons vivre ce que nous prêchons. La vraie prédication pour sortir hors du camp, c'est la vie. La vie que moi prédique, selon la parole de Dieu. La vie doit être conforme. Comme pour la première fois, les gens ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une uniforme. Non, c'est parce qu'ils avaient la vie. Celle qui était en Christ, comme pour le dire quelque part, imitez-moi, comme moi j'imite Christ. Ayons les mêmes sentiments qui étaient en Christ, pour que nous puissions être des chrétiens, pour sortir hors du camp, sortir hors de la tendance générale. Aujourd'hui, mes soeurs se vêtissent de n'importe quelle manière pour aller à l'église. Vous croirez que vous avez affaire à des saucissons. Pourquoi? Parce qu'ils portent, elles portent des amis qui collent leur corps. Les hommes font n'importe quoi. Ils peignent leurs cheveux de n'importe quelle manière. Oui, c'est bien. Peigner, ce n'est pas un péché. Mais quel est cet esprit qui t'anime, mon frère? Quel est cet esprit qui t'anime, ma soeur? Ainsi, si tu es ce que tu es aujourd'hui, mon frère? C'est parce que tu n'as pas encore atteint Christ. Ma soeur, tu n'as pas encore atteint Christ. Comme le coquille et le coquille et le coquille. On ne voulait pas être dans le Christ. On n'a pas encore atteint le Christ. C'est parce que nous sommes dans le Christ. On n'a pas atteint le Christ quand on t'envoie. Non, 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 non. Il doit y avoir communion entre lui et Christ. Alors, pour sortir du camp, comme je parlais de Noé, du monde intellectuel, les gens l'ont déconsidéré. Ils l'ont trouvé comme un homme démodé. Un homme qui ne pensait plus. Pourquoi? Perché gli avevano detto che Gio gli aveva detto che ci avessero avanti del cielo che vingaranno con questo terreno. Come nel tempo di Noé non c'era più di pluie, questo era un problema molto grave. Come Noé poteva dire lo? Noé non ha convainciato che il mio avanti che si sa l'icolo è iniziato. Nel caso c'era un problema, ma foi a Noé non c'è lui. arriviamo a dire il prenazono è atto che mi tendance generale il prenazono è acqua l'homme bizarre devant l'humanità il fallait cela e quando è sorti il s'est accroché a cette parole que tu lui avais donné il viser aux gens attention fui et je va faire tomber la pluie déjà ne comprenait pas les gens se sont moqués de lui quand jésus-christ venu lui fils de dieu puisque c'est des norma il n'avait pas quelque chose de spécial sur lui mais les mondes religieux la considérer comme belzéboul c'est ce qui est grave considérer dieu dans la chair humaine comme étant satan c'est un peché grave alors il faut attendre Christ qu'il faut attendre Christ quand elle se farde à ce moment là elle comprend qu'elle est à la mode or ce n'est pas ces fardes là qu'il y a avec lequel quelqu'un ou une femme peut rencontrer Christ lisons une écriture dans Deutéronome chapitre 22 verset 5 Deutéronome chapitre 22 verset 5 nous allons lire une écriture il dit une femme ne portera point un habillement d'homme mamma et n'en a pas de nom de ma femme et n'en a pas de nom de ma femme et n'en a pas de nom de ma femme Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Itakua kiambo, kia kufutia batu, papate kukuona kama maisha ya uyu baba, maisha ya uyu mama, ni maisha ingine. Me, kama shea bote, tunasema tukuma Christo, kwa sababu tukuna mabiblia, tukuna ya Angle, tukuna ya Kifini, na ya Kisuedua, na ya Kinofejan, Shiyui, kama na ya Spanish. Maisha, yonasma ni kumu Christou, ce n'est pas ça. Bu Christou ni maisha, c'est la vie. Maisha est née, ta kutocha, et nji a tendance générale. Tendance générale, tu ne peux pas comporter, yves. Mais moi, en tant que chrétien, tu dois comporter selon la parole de Dieu. questo è il mio corinthieno, capítulo 11 tutti i miei che parlano, il mio corinthio, il mio corinthio, il mio corinthio, il mio corinthio il mio corinthio, capítulo 11 il mio corinthio, il mio corinthio è che il mio corinthio, il mio corinthio è il mio corinthio oltre al quattro in ogni caso non ci si vede a polo non ci si vede a il niente e che sta accadendo a Cristo non ci si vede a il niente e che sta accadendo a noi perché paolo dice non ci si vede a noi che vi ma c'è Christ che vive a noi non ci si vede a noi e che sta accadendo a Cristo perché è la fondazione christo john singhie o cristo il cristo non è un amico che vuoi ma cristo il fa tutta e paolo tonite jo qui l'anna c'est moi et de ce que vous retenez mes instructions pour l'anna c'est moi tu n'as pas ma dirilla ma fondue del che io voglio dare Anche le persone che non aurero in fondo Alla direte Questo il rigore il bambia spazzu tra ultimo fanno non panniatri Questo il digore che aveva la mano sul caurì come una spazzuola Occhè la mia mani Questo il digore se è piuttosto che aveva una macchina che era facile L'onore con il bambini L'onore che fa anche la macchina La mia mani non ne 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 je ne 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 come Cristo, io buona, che fa quando sei buona, patron, boss, qui finiscono il mio pomo. Io non mi l'uomo, io su Cristo. asima ye ye njò buona njò patron or munga lisa tu n'apprenda vumenta ya yesu christo come avide mokosi tu tu n'asima mia pala or come tu n'asima yesu christo ni buona na mokosi ni kusama ni patron patron wa mungaji papa kayabala come patron a quita tua papa si sa nasse manon pendavion naisha kamati a réservations ya ko ya 10 ya ya 13h45 papa ou tatouage a wenda j'ai patron ou a kupitia wakutatou j'ai kumusha ya moaka on a pende m kongese ma gratification mais ça il est tout qu'una gratification ya poule ya uzima wa miler le tuto ke nj ya kambi si kusama tachibakazi apam c'est une lettre de mon patron tu vois la cuite quand même la bb be c'est une petite mèka c'est une petite mène c'est une petite mèche la pétration pour des choses passagères Il ca si sta con il ero, da quoi? Non ma mia vita, ma mia vita. Non ma mia vita, ma mia vita. Non ma mia vita, non ma mia vita. Non ma mia vita Luca, non ma mia vita, non ma mia vita. Lei carano, allora ha detto. Il ritaglio tutto il gioco il rito. Non ma mia vita. Perché la mia vita è stata una vecchia prima di lui. non si ci fanno ci ho senso il buffa, non si c'està le po' per farse ci sono delle più difficoltà? è meglio che inizia dal bucone sentite il suo campo e la nostra Bibliothè dice che alla Schettan vuodenni versetto 4 chi prie o chi prophetise la tete scuverte s'ahah c'est la mia nomina E'yote, mwenyewe, e'kona tabili, ivi nikona rubili. Na kichwa kenye kufunika, uyu monto anatosha eshima kwa chefu yake, kwa patrono wake, kwa bossu wake, kwa pomo wake, ni nani, Christ. Verse 5 Verse 6 Asama ni haya, kwa mwana mwge kwa nanyuele inye kukata, udetre raze, aobana mpalula. Kishori kia kumoba balasema kakuzu, bala mkuzula. Asama ni haya, kele sevual, hakuena kifuniko. L'homme ne bloa pas se couvrir la tête. L'homme ne bloa pas se couvrir la tête. Tandis ke la femme est la gloire de l'homme. Sasa mwana mwke yeye, ni utukufu wa buwana. Mwana mwke kama ere eshimika mubalabala, ni buwana na eshimiwa. Buwana ataka mani mwulevi. Mwana nilete mufano mwoya. Ya yafe, na msavu jina rwawa kupepa. Je parli du Congo. Fe kwa mwoyikwani kupepa. Nasama kwa kwa baba mwoya, sete nivroni. Mwulevu wa miyakweli me mama. Mwukawa ule papa. Mwukawa eishima sana. Bantu bote bende kumuyo mwule mupepa bana yyo asaya aoyo mama. Lakini buwana yonamwule teana. Mwaka ule, mwukuta ta mwukawa nalala yonamwulevi kabisa. Sa ingine na mpandalo mwuna lomala. Mwala mwukuta mwze, nije, zima papa, mwunyache. Lakini mama yonu yeye. Eko mwulevi, eko nakumbuka vile mbiya keko. Lakini mama yonu yeye. Hata, mwumweshimie, mwumweshimie, juu ya ima ishayamu. Lakini mama yonu mwumweshimie. Alor, mama, akikuwa na eshima, ataleta utukufu kwa mwana. Mwukristo, akikuwa na eshima, ataleta utukufu kwa mwana wake. Mwana wake nani, Jésus Christ. En effet, l'omne n'a pas été tiré de la femme. Mwana wame nani, akikuwa na eshima, akikuwa mwana wake. Mwana wame nani, akikuwa na eshima, akikuwa na eshima. Mwana wame nani, akikuwa na eshima, akikuwa na eshima, akikuwa na eshima. Mwana wame nani, 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 akikuwa na eshima. Il 6e giorni è stato creato Ma nel capítulo 2 Il ha fatto una differenza Il crea l'Homme Il formato Il ha una differenza e fommettare. Quindi, i CONNALA, se si stava a fare mamma e a fare a fare la mia amostra. Adesso la mia amostrava ha fare la mia amostra. E la mia amostrava ha fare la mia amostra. Se vuole, l'onfra tutto è facile. la mia amostrava, non a fa' feel a fa' su la mia amostra. La mia amostrava è vero la mia amostrava, La loro voce è di vita. Il questo elemento è una comprensionazione del orto. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. è quello che devi fare, non ci sei che cosa 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 io ho fatto che a un gioco il discreto e questo tutto e questo è qualcosa di giù e questa è una denominazione ma mia mia amma mi ha fatto questo non haciato è quello che ha creato ecce che dada adorno non lo facciamo e il lo faccio e che dice era quello il ritorno Il nostro corso gratuito, il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Non, 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 non. L'annatore è arrivato. Avetevi visto il nuovo il maio di bain ? Si sono venuto, io ho visto il maio di bain. E' stato già detto che i mamma, i vogliono un po' di paraca, ed è stato un po' di azamani, ma loro c'è una cosa che si è venuto. Ma loro faccio il paragrafo, entro con la predicazione che ho fatto? Non è stato un po' di sabato, non è stato un po' di anni 60. Quelle femme finirà par envenire il mio fede figlio. Asimba, manamuke batafika mkuvwala ile majani ya mutini rivwalaka dada evi mshama ya edeni. Unakumuga bakisha kufunja maneno ya mungu. Mungu aliko kubatafuta. Adam kafanya mayani ya mutini bakavwala. Mungu kabahuliza mungu wapi. Oh, tunakimbia. Oh, tunashikia haya. Oh, tuko huku. Nini? Munakua uvunchi sendio uyu manamuke vwala. Balivwala mayani ya mutini. Ya 33 ans de ça. Et maintenant, on les habille avec l'effet de figlio. Nani ya uyu. Ma mamamuke vwala 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 mayani ya mutini. Comment ça? Les jupes transparentes. Mungu, ma mamamuke vwala 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 uyu. Les femmes portent des jupes transparentes. Me? La pao de diyo nefai jame. Neno ya mungu wa uezu kufunjika kwa sababu batu, banafani kile banapenda. Esesa la denominasyon. Ni kutokutoka inje ya kambi. Mungu, Tukona, 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 Humez... Dmani watu, Mungu, Tukona, Tukona considère về sul nasce, attravo il musico di Dio, attravo il musico di Dio, attravo il Nosce Attus, attravo il psychico di Dio, attravo il bambino di Dio. Ma non sono fatti chrétiens, perché non sono un po' di mese, ma è il nome di Christo. Ascennò, l'am業 di proceedso di nuovo, avviene di fuggire e basta fare la nico di tutti, E non non ci sono tutti in shalom, non a tutti i mese di vene. e le agire in questo giorno e le agire in questo giorno